Bene amici, buongiorno a tutti, bentrovati sul canale. Quest'oggi vi parlo di un prodotto che ho acquistato con la raccolta punti Pantone di S.Lunga, ovvero queste, le cuffie stereo con collegamento bluetooth a padiglione. Apriamole insieme e andiamo a scoprire il contenuto della confezione. Ecco qua, contenuto minimal, ovvero le cuffie che già a primo impatto si percepisce la qualità costruttiva che devo dire non sono affatto male, di un bel blu scuro, rivestimento in similpelle penso, e un sacchettino con all'interno il cavetto jack per collegare direttamente alla sorgente audio qualora non si volesse utilizzare il collegamento bluetooth e il suo cavetto usb micro usb per effettuare la ricarica. Nelle specifiche dice che ci vogliono due ore e mezza per ricarica e viene garantita un'autonomia di, vediamo un po', 14 ore di utilizzo. A mio avviso sono proprio ben fatte, danno proprio l'idea di un buon prodotto. Vedremo se poi anche con l'utilizzo quotidiano si riveleranno tale. Sul padiglione di destra troviamo tasto di aumento e diminuzione volume, tasto di attivazione bluetooth, ingresso jack e microfono suppongo. Mentre sulla sinistra troviamo tasto on off correlativo led e ingresso micro usb per per la ricarica. Per connetterle è semplicissimo, mi basterà accendere, schiacciare il tasto col simbolo bluetooth, la voce in inglese vi dirà che il bluetooth è acceso. Sul vostro cellulare farete una ricerca dei dispositivi bluetooth, troverete headphone pantone e vi basterà associarlo e il gioco è fatto. Proviamo a indossarle e ad associarle con lo smartphone e vediamo un po' come si comportano. Devo dire che con una prima prova rapida sono ben imbottite, il cuscinetto è ben imbottito e questo fa sì che risultino molto comode. Anche per me che ho le orecchie grosse vengono completamente avvolte dal padiglione imbottito, di conseguenza vengono isolati da tutti i rumori esterni e allo stesso tempo sono comode da tenere in indosso perché non danno fastidio. Oltre a essere la classica cuffia per ascoltare la musica, per ascoltarvi un film, avendo anche il microfono integrato, qualora vi arrivasse una telefonata piuttosto che rispondendo sentirete direttamente l'audio nelle cuffie ma allo stesso tempo potrete anche conversare utilizzando il microfono delle cuffie stesse. E da una prova che ho fatto si sentono anche particolarmente bene, sia in ricezione chiamata che dall'altra parte in uscita microfono. Il che non guasta perché è una funzione aggiuntiva che può sempre tornare utile. Come vedete l'anello che cinge la testa è anche regolabile per permettere anche a chi ha la testa più grossa di indossarle con comodità. Potete anche piegarle, far occupare meno spazio e riporle all'interno del vostro zaino per portarvele sempre con voi. All'interno trovate anche il breve manualetto di istruzioni. Sono giusto quattro tasti. Però è comodo perché in base al tasto che andate a premere con un clic singolo o con una pressione prolungata, ad esempio il tasto del bluetooth, una volta accoppiato al vostro cellulare in automatico, quando accendete le cuffie andranno a accoppiarsi automaticamente al vostro cellulare. E come vi stavo dicendo, premendo il tasto bluetooth con un clic singolo avrà funzione play, pausa, qualora stiate ascoltando delle canzoni, mentre con una pressione prolungata si accende o spegne il bluetooth. E sempre lo stesso tasto, qualora vi stia arrivando una telefonata, con un clic singolo sul tasto bluetooth si accetta la chiamata. E con una pressione prolungata si rifiuta la chiamata, che non è male, così anche i tasti del più e meno svolgono funzione sia di aumento di munizione volume e sia di canzone successiva o canzone precedente. Tutto sommato dai, a primo impatto mi sembra un buon prodotto. Poi, voglio dire, facendo la spesa, avevo i bollini da consumare, mi sembrava un buon prodotto da prendere. Sostituto il valore di mercato è di 90 euro, io con 30 bollini più 25 euro me le sono portate a casa. Con questo si conclude qui questo breve unboxing e prime impressioni sulle cuffie bluetooth della raccolta bollini Pantone di S.Lunga. Come al solito, se vi è piaciuto il video, mettete un bel like, condividete, iscrivetevi al canale e un saluto dal vostro Max Review. A presto, ciao! Grazie a tutti!